Siamo con Roberto Piazza, innanzitutto direi che la squadra ha interpretato al meglio una partita che era comunque delicata, confermando un buon momento e insomma confermando anche che i giocatori allenatori ci tenevano a far bene. Guarda, il problema grosso è che noi siamo pagati per fare i professionisti e allora o vogliamo fare i professionisti fino in fondo o altrimenti lasciamo che la gente esprima il proprio parere perché è giusto, in Italia la libertà di piglione c'è, io ho sempre detto che il pubblico va educato e basta insomma. Poi dopo noi abbiamo interpretato la partita perché noi ci teniamo, è evidente che quello che potevamo fare, quello che possiamo fare al massimo è arrivare al quinto posto, al massimo è quello, di più non possiamo fare, purtroppo non ce lo siamo guadagnati sul campo ad andare in semifinale e di conseguenza dobbiamo fare questo. Ora arriva Ravenna che ha eliminato Modena, sarà un'altra bella sfida. Voi provate a immaginare la motivazione che può avere Ravenna di giocare per portare più pubblico l'anno prossimo a Ravenna, giocare per mettere in mostra i propri giocatori, i propri beniamini eccetera eccetera, le motivazioni che ha il gruppo di Cuneo quali sono? Sono semplicemente che chi ci rimette sono i giocatori, cioè se il signor Presidente Walter Lanutti ha deciso di portare la squadra a Torino ed è un suo diritto ma che se la prendano con il Presidente. Purtroppo l'allenatore all'inizio dell'anno aveva detto esattamente tutto, l'ho detto ai tifosi e quando oggi mi sento dire certe cose, perdonatemi, io dico l'ignoranza è una brutta bestia.